Si prepara a vivere un'estate galattica, dall'8 al 12 luglio il primo camp del Real Madrid per ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni. Novità assolute di grande prestigio per la marignanese calcio che si prepara a vivere un'estate galattica, ospitando sui suoi campi la prossima estate il primo camp del Real Madrid. Il camp dei madrileni si svolgerà dall'8 al 12 luglio presso lo stadio di San Giovanni Marignano ed è rivolto ai ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni che potranno trascorrere 5 giorni di calcio, studio e divertimento con i tecnici della società spagnola, seguendo le linee guida dell'Accademia Giovanile Madrilena. I partecipanti saranno vestiti con tutto il kit ufficiale del Real Madrid, maglia, pantaloncini, calzettone e pallone, borraccia e sport bag verranno analizzati inizialmente da un punto di vista tecnico con una scheda personale e potranno allenarsi con la possibilità di qualificarsi per il provino finale ed essere selezionati per giocare al Santiago Bernabeu. Gli allenamenti saranno curati in ogni minimo dettaglio con l'utilizzo delle moderne metodologie di ultima generazione come lo smart ball, palloni con sensore integrato. La giornata tipo del camp dei madrileni prevede l'accoglienza dalle 7.30 alle 9, allenamento dalle 9.30 alle 11.30, una pausa pranzo presso lo stadio con menù d'atleta, dalle 13 alle 14.30 un corso di lingua spagnola, un secondo allenamento pomeridiano dalle 14.30 alle 17, una merenda alle 17.15 per poi chiudere la giornata alle ore 18. Dal primo febbraio iscrizioni aperte a tutti per vivere un'estate davvero galattica.